La cessione della Casa della Divina Providenza, la cordata foggiana che ha presentato l'offerta giudicata più interessante, vivrà una giornata decisiva il prossimo 5 gennaio. I sindacati infatti sono stati convocati a Roma presso il Ministero per lo Sviluppo Economico per il primo vertice sul futuro dei 1.500 lavoratori delle tre strutture sanitarie di Biceglie, Foggia e Potenza. La scheda. L'amministrazione straordinaria della Casa Divina Providenza e la Universo Salute SRL incontreranno le organizzazioni sindacali dei lavoratori il 5 gennaio 2017 presso la Sala Commissioni del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. La conferma di questo vertice arriva direttamente dall'amministratore straordinario della Casa Divina Providenza, Bartolo Cozzoli, che in una nota sottolinea che il 27 dicembre è stata firmata e trasmessa la convocazione che dà l'avvio alla consultazione sindacale per la cessione della Casa della Divina Providenza. Si tratta di una prima riunione nel corso della quale Universo Salute SRL, la società che ha presentato la migliore offerta d'acquisto, illustrerà i contenuti essenziali della proposta, spiegando essenzialmente come salvaguardare i livelli occupazionali. Si parla quindi del destino di oltre 1.500 lavoratori. Ma è anche una battaglia contro il tempo. L'obiettivo, ricorda Bartolo Cozzoli, dovrebbe essere raggiungere un accordo sindacale sul personale della CDP entro il mese di gennaio 2017. Il percorso comunque è ancora impegnativo e questo rappresenta solo uno dei passaggi previsti dalla normativa vigente in materia e dalla disciplinare di gara. Per arrivare alla giudicazione definitiva e alla concessione dei complessi aziendali si dovranno realizzare altre condizioni essenziali. In particolare occorrerà verificare se eventuali aventi diritto eserciteranno il diritto di prelazione all'acquisto rispetto all'offerta individuata, acquisire dall'aggiudicatario le fide e usioni bancarie e garanzia degli impegni assunti nell'offerta, a divenire alla sottoscrizione del contratto di cessione. Tutto ciò non senza dimenticare che ai sensi del disciplinare di gara fino alla definitiva cessione il commissario straordinario può recedere in qualunque momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il loro stato e in grado di avanzamento, nonché di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della procedura di vendita, ovvero di assumere impegni vincolanti nei confronti di altri soggetti terzi.